per quale motivo stamani son vivo che giornale cazzo senta ma lei cosa ne pensa del disco nuovo di Sandalo? eh? ha da dire qualcosa? no forse forse lei forse ha da dire qualcosa? no non ha da dire sì glielo chiedo subito glielo sto chiedendo sì glielo sto chiedendo ascolta no i Sandalo no i Sandalo non sono disponibili oggi no i Sandalo no scordatelo no scordatelo basta non li conosco ma come lo riconoscere? cioè sono un gruppo mai rinnovato nella scena mondiale non nella mia terra nel mio paese santa santa quale sono le vostre date mai avute grazie perfetto scusate un attimo si 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 è qui è qui me lo posso fuori si? vado al mare vado al mare a prendere il sole vado al mare ha saputo dimostrare le ultime fatiche del Sandalo c'è dell'arte in giro c'è dell'arte in giro è inutile conoscere lei per caso la Sambuca? la Sambuca la conosco molto bene perché una volta la Sambuca l'ho bevuta l'ho bevuta e mi ha non c'è Gesù l'ha mai danzata come pensa la sostanza che mi entra nella macchia se non è un po' più di nove sono dieci che ho le prove Senta ma come ve mi dice una cosa ma questo disco come lo avete concepito? drogati si eravamo qui gli stavamo dicendo come è nato il disco di Sandalo no? mi puoi spiegare qual è la concezione e la realizzazione di questo disco? la palingenetica obliterazione dell'io sono conscio che si imputura nell'archetipo dell'artroporfismo universale artrotico rock ortopedico debosciati alcol pipì Sandalo